...e così che ha finte del P942, voglia voi, stavate da qua... ...ma capito, voglia applausi... ...cola, da che è un po' su... ...no è che è un po' su... ...no è che su stuola c'è un po' c'è schio, la roba su, non so riesci a consumare... ...questa è un po' tutto l'anno, si mette in una seripata... ...a un po' con il po' di... ...no perché dietro al suo letto ci stanno facendo sacchi di roba... ...ce che ha finto del P9900... ...ma non mi raccomando il palco, in realtà sul fattore non fa via... ...suscratico ha il proprio sistema dei punti... ...ma noi qui cosa mi riprende, ma è del piscutato... ...e un piscutato, non so... ...la prima si è alzata... ...ha fatto di lavare il piante... ...però si fa faccio... ...e invece non mi vede neanche il luogo di prendere... ...che' un po' di... ...a perché... ...se la fa un trattante... ...e invece se fa... Scusa, quando Rurali mi ha detto questo appunto la stessa settimana, anche io ti avevo detto una cosa, cerca di crescere un pochino ogni tanto quando dici quelle caldi a casa mia, e quando ogni tanto riveli a casa mia, sono pizziata, la mamma mi tratta bene, fumato. Poi tu hai detto, una frase, appunto, degli appunti che ti aveva patolati, che si è chiamata l'applauso, perché intendevi dire quello, cioè, lei perché la studio se ti dà applauso devo fare pure io, cioè, no, no.